Questo è stato il miracolo di questa città, con l'adesione della comunità alla polis, quindi alla politica della città, partendo da un presupposto che è quello della cultura, cioè della conoscenza. La gente ha compreso che il capitale fisso di storia poteva trasformarsi nel ruolo della città per il suo sviluppo. Questo è stato il paradigma e l'equazione che ha portato Matera a dove è arrivata. In sintesi, a Matera è venuto ancora una volta uno scandalo. La questione culturale si è trasformata in questione politica. Questa valenza, questa consapevolezza di vivere questo vitalismo storico della città si è tradotto nella adesione della comunità al destino della polis e a costruire il futuro del destino della polis. Ecco perché i commissari europei hanno premiato la città, perché hanno visto una partecipazione viscerale, convinta, responsabile, non più una comunità spettatrice, ma una comunità attrice. Se si gira nella città in questo momento e si vede la gente che passeggia o che si muove o che lavora nella città, si registra questa tensione di una carica di adrenalina positiva. La gente, oggi o come oggi, ha fiducia nel futuro, ha speranza nel futuro, ha cancellato la sfissia di futuro. Questo è il riscontro di una comunità che è in salita, ma è come uno scalatore, forte, energico, sa che deve raggiungere una vetta ed è in questa operazione forte di marcia, di marcia convinta, ma soprattutto fiduciosa. Ecco perché è possibile realizzare un modello vincente.